I primi effetti della schiacciante vittoria di Viktor Orban alle elezioni ungheresi sono le dimissioni dei leader dei principali partiti di opposizione. In teoria l'alta affluenza avrebbe potuto favorirli, ma secondo i risultati non sono riusciti a strappare il consenso delle aree rurali. Il voto è andato particolarmente male per i socialisti, che si sono alleati con i verdi, ma sono arrivati comunque al terzo posto. Adesso è evidente che non possiamo costruire una comunità democratica e un'alternativa democratica, quando chi vive in campagna è lasciato solo. Al secondo posto è arrivato Jobbik, partito di destra nazional conservatore, non più euroscettico. La campagna elettorale basata sulla lotta alla corruzione e sulle proposte per far tornare in patria i tanti ungheresi che lasciano il paese non ha pagato. L'obiettivo di Jobbik era di vincere le elezioni e ottenere un cambio nel governo. Non è stato ottenuto, ha detto in conferenza stampa il leader Gabor Vona. Fidesz ha vinto di nuovo, ha aggiunto.